Eccola, la nostra modella, con la sua classe. Chiami Savarapenna a compasso! Sono bella. Allora, abbiamo portato un po' di novità, cioè dico, spero che lei quest'anno come novità insegni la classe al pubblico siciliano. Scusate l'assenza intanto? Sì. Sono stata a Milano, ho lavorato in prestigiose case di moda, ma alla fine, avendo ricevuto una chiamata importantissima da casa, sono dovuta tornare immediatamente. Ah, una chiamata per un outfit speciale che doveva fare, non lo so, dello shooting. Una marca, la cercavo una marca speciale proprio per... Una marca siciliana. No, è mani ignoranza. E qual è la cosa importante per cui è dovuta tornare in Sicilia? Me nonna mi fici i milincian ammottonate! Ma... Ma...